Questo test deve dimostrare che siamo riusciti con questa tecnologia, con questo processo ad ottenere l'iscaldamento dell'acqua, quindi energia termica che poi può essere trasformata in elettricità e con costi di produzione estremamente bassi. Io voglio silenciare la nuova fisica. Io le potrei far vedere che nei libri il test sono una roba del genere, non la trova, anzi, fino a ieri poteva trovare diverse persone che vi dicevano che è impossibile. Senta, ma che cosa succede qui dentro? Lo dica lei o no? Qui dentro, fondamentalmente succede che gli atomi di hidrogeno, gli atomi vengono separati dai loro elettroni, i crotoni, e però per rispondere devo parlare con un linguaggio forse un po' di facile. Diciamo che l'idrogeno viene assorbito dal nickel e poi è sottoposto nucleare dell'atomo di nickel. A questo punto c'è una trasmutazione atomica con emissioni... ...tronica di controllo dei nostri apparati. Sistemi standard della fisica nucleare, molto ben collaudati tra l'altro. No, no, se lo scopio con uno dei segnali provenienti, per ora non c'è radiazione. Grazie infinite per la vostra presenza. Io spero che tutti quanti abbiano potuto entrare e io spero di essere riuscito a spiegare a tutti il funzionamento del reattore. Mi sembra di sì e prima di tutto, se mi permettete, dato che il dibattito con i tecnici e gli scienziati sarà un attimino lungo, io vorrei prima dare la presidenza ai giornalisti per rispondere alle loro domande, affinché loro possano andare a fare il loro mestiere. E poi noi possiamo invece continuare con dei discorsi più approfonditi che credo che alla stampa interessino. Perfetto. Allora, le tre curvette che voi avete visto sono una azzurra, una rossa e una gialla. La curva azzurra è la linea della temperatura. Vedete che nel grafico, il grafico è un grafico ad assi cartesiani, dove in ascissa, cioè lungo l'asse orizzontale, è riportato il tempo, cioè i minuti. Mentre in ordinata, ossia lungo l'asse verticale, sono riportate le temperature in gradi centigradi. Allora, voi avete visto che quando siamo partiti le tre linee erano tutte e tre molto vicine, nel senso che avevamo circa 15 gradi, 13-15 gradi di temperatura, sia per l'acqua in entrata che per l'acqua in uscita. Voi che siete stati all'interno, spero che lei sia tra le persone che sono entrate, avete visto le due termocopie, cioè la termocopia, termocopie sono gli strumenti per misurare la temperatura. Scusate, io magari do spiegazioni banali, ma faccio conto, essendo voi stampa, di parlare a persone non esperte. E quindi le termocopie ci hanno dato le varie temperature. Vedete che la linea gialla a un certo punto si è staccata. Adesso il problema vero è capire perché la linea gialla a un certo punto si è staccata, cioè perché siamo arrivati oltre i 100 gradi centigradi e quindi abbiamo fatto vaporizzare l'acqua. Calcolando il calore di vaporizzazione, cioè l'energia necessaria per trasformare l'acqua in vapore, e calcolando il calore di riscaldamento dell'acqua, cioè in base al calore specifico dell'acqua, ossia la quantità di energia necessaria per innalzare l'acqua di un grado o più, abbiamo ottenuto, poi adesso non sto a farvi le formule che andremo a complicare la cosa, ma in ogni caso con un calcolo non difficilissimo si viene a capire che dato il flusso, la quantità dell'acqua che se non mi ricordo male era attorno a 16-17 kg ora di acqua, di flusso che sono passati dentro. Dato il delta T, dato il calore di vaporizzazione, abbiamo prodotto una quantità di energia su per giù, poi dopo mi diranno il numero esatto, tra i 10 e i 12 kWh per ora di flusso energetico in uscita. Il consumo medio in entrata, cioè l'energia che noi abbiamo consumato per produrre questi 12 kWh, significa 12.000 Watt, è stata mediamente di 6-700 Watt. Quindi noi abbiamo avuto 6-700 Watt in ingresso e per rispondere alla sua domanda cosa significano queste tre linee. La rossa significa niente perché è solo la temperatura ambiente, è la temperatura della stanza dove noi ci trovavamo. l'azzurra è la temperatura dell'acqua in entrata, che è la temperatura dell'acqua di robinetto sostanzialmente, mentre la gialla è la temperatura dell'acqua dopo il reattore, che era 101, quindi non era più acqua, ovviamente era vapore. Uno dei tecnici presenti dentro aveva uno strumento che misurava la secchezza del vapore, cioè che effettivamente fosse tutto vapore, non fosse una miscela di vapore acqua, ciò che fosse vapore secco. Il vapore era secco, quindi noi possiamo tranquillamente conferire i circa 600 Watt, che sono l'energia di vaporizzazione di ogni chilo d'acqua, li possiamo conferire all'energia prodotta. Spero di avere risposto alla sua domanda. Sì, allora, l'esperimento è stato eseguito, è stato eseguito, sì, da noi in quanto sottoposti a esame, ossia noi abbiamo portato questo reattore per essere esaminato, disaminato. Le persone che hanno effettuato questo test, che adesso mi daranno i numeri esatti di quello successo, sono professori dell'Università di Bologna. E' strana il progetto, certo, è che non sono né nostri dipendenti né né nostri consulenti. Ma sa, reattore è qualsiasi, reattore è molto generico, perché qualsiasi impianto in cui avvengono reazioni di qualsiasi genere si chiama reattore. Quindi dire reattore è un po' come dire animale. Per definire un po' meglio, a noi piace chiamarlo catalizzatore di energia, in inglese energy catalyser. Ecco, poi c'è un grosso punto di domanda che io mi pongo. Dietro a questo processo ci sono problemi teorici che non sono ancora stati risolti. ossia, molto onestamente, io vi devo dire che per quale motivo si ottengano questi risultati da un punto di vista fisico, noi lo abbiamo ipotizzato. Però io ritengo che ci sia molto da studiare, perché una teoria esatta sul perché di queste reazioni richiede ancora molto studio. E in questo studio c'è lo spazio, secondo me, per notevoli, perché teoricamente il coefficiente, noi oggi abbiamo avuto un coefficiente di circa 15, cioè abbiamo dato circa 15 volte più o meno l'energia in ingresso. Secondo me si può arrivare molto più in alto. Ci sono motivi connessi con la sicurezza per stare entro massimi e assoluti limiti di sicurezza, per cui non spingiamo. Il rettore potrebbe dare molto di più. C'è ancora molto da studiare. Siamo alla Ford T, bisogna arrivare alla Formula 1. Questi sono moduli, quindi si possono mettere in serie e in parallelo. Se lei vuole alzarsi di temperatura li deve mettere in serie. È analogo a quello che si fa con le batterie elettriche. Se lei vuole alzare il voltaggio le mette in serie. Se lei vuole alzare l'amperaggio le mette in parallelo. E qui se lei vuole alzare la temperatura li mette in serie. Se lei vuole alzare la quantità termica a temperatura costante li mette in parallelo. Sì, è così. Sono stati raggiunti importanti accordi internazionali e in particolare, poi non so se lo vorranno dire no, ma sono presenti in questa sala partner nostri che hanno iniziato un percorso estremamente alto livello per la produzione in serie di queste apparecchiature. Se non ci sono altre domande da parte dei giornalisti il dibattito è aperto a tutti. Posso? Allora, chiaramente io ero abbastanza curioso riguardo la parte cosiddetta nucleare e compatibilmente con gli strumentini che ho portato, sembrerebbe che c'è un leggero aumento della radiazione gamma generale ambientale localmente, circa il 50%, dire più o meno, instabile. E quindi questo è molto importante, vuol dire che apparentemente non c'è improglio, perché se era stabile potrebbe essere una sorgentina nascosta, tanto per parlare in maniera chiara. Ma guardi, ormai è da un anno che l'ambiente l'ambiente le conosce come è fatta, per cui uno deve pensarle tutte, non per offesa. No, no. Il sistema era instabile, ottimo segno, dal mio punto di vista. Ho chiesto di poter fare le misure... La ringrazio. Prego. Però ho chiesto di poter fare le misure anche come spettro, capire qual era l'energia dei gamma emessi e lei ha detto che in questa modo avrei capito tutto, qui me lo ha impedito. Sì, perché... Beh, professore... A me come scienziato dispiace molto. Capisco, però mi dispiace. Lei è troppo preparato ed è troppo intelligente per non capire che lei con quello strumento era in grado di leggere all'interno del reattore. Lo so, però quando uno invita gli scienziati è chiaro che uno deve stare al gioco anche... Capisco. Capisco, capisco, capisco la parte economica. Quando gli scienziati accettano gli inviti degli industriali... Vabbè, insomma, comunque sia, c'è un altro punto che forse potrebbe essere, non so quanto sia, poi riproducibile. Primo... La sento poco, può alzare? È apparito. Pronto? Allora, io ho osservato due cose. Primo, che c'è stata una specie di piccolo flash gamma appena lei ha acceso, l'ho detto anche i miei colleghi, e un altro quando lei ha spento. Ora, è difficile pensare che un disturbo elettromagnetico sia in grado di far partire due strumenti a batteria indipendenti. Per cui questo, diciamo, è interessante. Quello che non capisco, come mai le misure rispettate del beta più, la coppia è più e meno, apparentemente hanno dato valori quasi nulli. E qui forse il collega Levi potrebbe darmi una qualche risposta. Io su quel fatto non sono in grado di risponderle, perché il mio obiettivo è di tipo energetico. Cioè, io immetto 400 watt, prendo 12 kg, basta. No, capisco, però anche una firma nucleare sarebbe stata molto bella, ecco. Ma potrebbe anche essere un problema di... Il reattore internamente è fatto in modo estremamente complesso, nonostante le apparenze. Quindi potrebbe anche essere che il sistema geometrico interno del reattore nasconda mascheri. No, no, ma se i gamma ci stanno, escono fuori. Non c'è il ciume di dire che attenga. Ok, grazie. Grazie a lei. Volevo anch'io fare un commento, più che altro una domanda, più che un commento, riguardo appunto l'emissione dei gamma. Perché forse mi sono perso questa informazione che evidentemente il mio amico Celani ha avuto. Mi sembra di capire quindi che non ci sono stati misure di coincidenza in questa prova. Ho capito bene la misura? Sì. In gamma. Ok. Io non penso che l'assenza di gamma sia un problema. Anzi, io mi aspetterei... Francamente nemmeno io. Mi aspetterei... Come ha detto giustamente il professor Celani, sarebbero state la ciliegina sulla torta. Io mi aspetterei invece che appunto non ci debbano essere delle annichilazioni di positroni. Perché se ho capito bene, almeno la vostra ipotesi di teoria, c'è un ingresso, cioè in qualche maniera i protoni entrano all'interno dei nuclei di nickel, barisotopi di nickel, e fanno spostare attraverso dei decadimenti, cioè delle trasmutazioni, dei decadimenti che vanno sul rame, poi tornano sul nickel, comunque fanno spostare gli elementi nella parte destra della tavola dei nucleidi. Ed è notorio che nella parte destra della tavola dei nucleidi i decadimenti sono beta-. E quindi io non mi aspetto, se è corretta la vostra interpretazione teorica, che ci siano delle emissioni di positroni. Quello che lei dice è assolutamente plausibile. Ok. Va bene, la ringrazio. Grazie a lei. Grazie a lei.